Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Un fulmine colpisce una cabina alla stazione ferroviaria di Fano e intilti segnali elettrici sulla linea Ancona-Bolugna provocando rallentamenti e disagi 27 i treni coinvolti Il comune di Fano presenta il progetto per l'area dell'ex zuccherificio sarà destinata allo sport e al tempo libero e verrà chiusa al traffico Presentato a Lucrezia di Cartoceto il progetto di un nuovo centro parrocchiale intitolato a Papa Francesco 100 stoci della BCC di Fano vanno gratis a scuola d'inglese lezioni offerte dalla banca Dopo il Tg torna a Primo Cittadino il programma in diretta con il sindaco di Fano Massimo Seri Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia apriamo il nostro telegiornale con il temporale che si è abbattuto su tutta la regione a Fano un fulmine è caduto alla stazione ferroviaria provocando disagi e ritardi dei treni Violente scariche elettriche e traffico in tilt è quanto causato da una forte perturbazione che ha creato danni e disagi in diverse parti della regione Marche alla stazione ferroviaria di Fano un fulmine ha provocato un cortocircuito nella sala a relais mandando in tilt una cabina elettrica di segnalazione che ha subito un guasto ai sistemi automatici di controllo sul posto è intervenuta la polfer di Pesaro per ripristinare la situazione ma l'accaduto ha provocato un rallentamento del traffico ferroviario dalle 7.30 fino alle ore 13 sulla linea adriatica Ancona-Bologna conseguenze per 27 treni 5 frecce, 3 intersiti e 13 regionali che hanno registrato ritardi fino a 90 minuti 5 convogli locali hanno seguito un percorso limitato e uno è stato cancellato disagi per il maltempo sono stati registrati anche nel Fabrianese e in Vallesina zone colpite da un violento temporale dove si sono allagati i garage e i sottopassi sono state segnalate inoltre interruzioni dell'energia elettrica a Iesi un fulmine ha peccato il fuoco ad un letamaio l'incendio è stato domato dai vigili del fuoco è probabilmente dovuto alle forti piogge anche un incidente stradale avvenuto in provincia di Ancona lungo la strada statale 16 si tratta di uno scontro frontale tra un furgone e una vettura dove sono rimaste ferite in modo lieve tre persone trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette il traffico è rimasto bloccato per tutta la durata delle operazioni anche nella città di Fano traffico rallentato è intorno alle 8 sulla strada adriatica da Fosso Segliore fino al centro cittadino dove si sono formate lunghe code e come accade ogni qual volta piove si sono lagati i sottopassi del Lido e di Torrette quello che vedete ora invece è un video girato stamattina da un nostro reporter di strada immagini che riguardano allagamenti sulla strada per camminate e torniamo a parlare della variante dell'ex zuccherificio perché oggi il comune di Fano ha presentato la sua proposta per valorizzare l'intera area guardate destinare l'area dell'ex zuccherificio a valenze ambientali turistiche sportive e ricreative è questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Fano che ha illustrato il progetto della nuova pianificazione si propone una superficie commerciale no food di 2500 metri quadrati con un centro congressi, laboratori, palestre, fitness e centri per la salute prevista la possibilità di realizzare una piscina comunale di 25 metri per 16 e una per bambini e per la riabilitazione si potrebbe progettare inoltre un palaghiaccio come nella città di Iesi si pensa poi alla ricostruzione delle due torri che alte 40 metri con un diametro di 20 costituivano un profilo paesaggistico caratteristico di Fano potrebbero essere destinate ad un uso alberghiero o ristorativo per spazi espositivi e museali o per un ascensore con terrazza panoramica il percorso partecipativo che si avviera ora potrà modificare, migliorare e perfezionare tutte queste previsioni nell'ambito del percorso che definirà la previsione siamo aperti ai contributi ai contributi dei soggetti dei cittadini qualsiasi ma anche dei soggetti qualificati specifici, di settori specifici che potranno portare suggerimenti e indicazioni di miglioramento della previsione Quella dell'ex zuccherificio è un'area strategica secondo il tecnico dell'ufficio piano regolatore Piamicoli che ha illustrato in conferenza alcuni punti fermi su cui si basa il progetto l'area commerciale sì perché comunque un commercio diciamo di vicinato di supporto può essere importante però noi lo immaginiamo no food e a servizio dello sport, del tempo libero, della salute immaginiamo sanitarie, negozi di giocattoli di attrezzature sportive cose insomma a supporto dell'area di qualificare le aree umide come già era nel precedente progetto come la VAS indicava le aree umide che diventano L'area di accesso all'asta fluviale noi immaginiamo percorsi pedonali naturalistici, pesca, maneggio visite guidate al fiume bird watching ecco tutte attività legate al fiume L'area inoltre sarà chiusa al traffico L'area si raggiunge si deve poter raggiungere anche a piedi o in bicicletta per cui abbiamo ipotizzato alcuni percorsi ciclopedonali che connettano l'area al mare l'area al fiume l'area al centro storico La proposta illustrata oggi vuole essere un argomento di discussione da presentare alla città e alle forze economiche interessate per arrivare ad un accordo di programma Tutti i portatori di interesse saranno chiamati a dare la propria visione dell'area Questo percorso ci porterà in tempi relativamente brevi inferiori ad un anno ad avere la proposta urbanistica che assieme alla proprietà permetterà di stipulare un accordo di programma una modalità per raggiungere una variante del piano regolatore in tempi comunque celeri più brevi rispetto alla classica percorso urbanistico Questo ci porterà a dare una risposta al problema dello zuccherificio il più possibile concreta e realizzabile A Lucrezia di Cartoceto invece è stato presentato il progetto di un nuovo centro parrocchiale intitolato a Papa Francesco Sarà intitolato a Papa Francesco il nuovo centro parrocchiale a Lucrezia i cui lavori inizieranno a gennaio 2016 Sarà in grado di accogliere le attività di segreteria della parrocchia nuovi locali per la caritas parrocchiale oltre a numerosi spazi per i giovani un nuovo oratorio e un salone da 500 posti per convegni e anche una biblioteca un progetto che prevede anche la riorganizzazione degli spazi esterni e la collocazione del nuovo edificio maggiormente addossato alla chiesa incorpora parametri di bioedilizia e standard costruttivi modernissimi oltre ad una concezione estetica con un chiaro messaggio nuovi spazi, nuove attività per esempio abbiamo una biblioteca che è situata sul terzo piano dove c'è questo elemento caratteristico del progetto che è questa sorta di cannocchiale che si affaccia sulla città, sul territorio per una visuale sul mondo Progetto ex novo quindi che implica anche tecnologie innovative avete pensato di modernizzare anche il progetto esistente? Sì, abbiamo pensato di fare una sorta di progetto che faccia da riferimento un po' anche per queste innovazioni tecnologiche che riguardano la parte impiantistica che riguardano anche il discorso della struttura quindi anche un edificio a risparmio energetico Siamo partiti con l'idea di recuperare tutti gli edifici del centro parrocchiale poi negli anni questo discorso del recupero, della ristrutturazione si è modificato in un nuovo edificio pensiamo di demolire gli edifici esistenti e proporre un edificio nuovo con caratteristiche attuali dal punto di vista statico e anche energetico Il progetto per la realizzazione del nuovo centro parrocchiale prevede l'abbattimento del vecchio cinema non più agibile e dell'ex asilo l'attuale GP2 Per arrivare a questo nuovo edificio capace di rispondere alle numerose esigenze della comunità si è passati attraverso un confronto con tutte le realtà parrocchiali esistenti C'è stato nel corso degli anni una consultazione con tutte le realtà esistenti in parrocchia per vedere quelle che erano le esigenze di spazi che sono necessari per fare appunto vivere la nostra parrocchia quindi si è deciso di abbattere questi due edifici che sono oramai obsoleti come l'ex GP2 e l'ex cinema per realizzare una serie di spazi per la catechesi, per centro aggregativo oratorio, salone, eccetera tutta una serie di attività che riusciranno a far vivere la nostra parrocchia Il nuovo centro parrocchiale Papa Francesco darà non solo un nuovo volto all'area parrocchiale ma sarà un'opportunità unica e importante per tutta la comunità di Lucrezia Ed ora una breve di cronaca a causa di un semaforo lampeggiante nell'incrocio tra Via Palazze e Via Negusanti a Fano oggi intorno alle 18 si è verificato un incidente tra due automobili per fortuna non ci sono stati feriti ma solo danni ai mezzi coinvolti nello scontro sul posto alla Polizia Municipale di Fano per i rilievi di legge per dirigere il traffico che ha subito qualche rallentamento I cento soci della Banca di Credito Cooperativo di Fano andranno a lezioni gratuite d'inglese grazie ad una collaborazione nata con il Polo Scolastico 3 È stato presentato ufficialmente il corso base d'inglese che la Banca di Credito Cooperativo di Fano offre gratuitamente ai suoi soci grazie ad una collaborazione con il Polo Scolastico 3 della città della Fortuna Le persone che hanno inviato la loro richiesta di iscrizione sono state in pochi giorni quasi 150 a fronte di 20 posti disponibili e per premiare l'interesse dimostrato la Banca, ottenuta la disponibilità degli insegnanti ha deciso di investire ulteriormente nell'iniziativa proponendo ben 5 edizioni successive del corso partecipano persone di tutte le età ha specificato il vice direttore Marco Pangrazi l'iscritto più giovane è un 26enne mentre la socia più matura ha ben 85 anni è la dimostrazione che siamo riusciti ad interpretare le esigenze dei soci ha concluso offrendo un'opportunità sia di formazione che di scambio sociale grande entusiasmo inoltre è stato espresso anche da Anna Gennari dirigente del Polo Scolastico 3 da sempre sede di iniziative laboratori e corsi di formazione nei settori tecnici, linguistici, grafici e artistici questa occasione secondo Gennari rappresenta sia una crescita professionale per i docenti sia un'opportunità per gli studenti per entrare in contatto con il mondo del lavoro grazie ad una solida realtà come quella della cooperativa e si intitola Occhio alla cioccolata la comedia che i ragazzi dell'oratorio di Rochano porteranno in scena questo fine settimana nella sala parrocchiale della chiesa di Santa Maria La cioccolata piace a nove persone su dieci e probabilmente la decima dice le bugie ma per farne uno spunto per una commedia ci vuole tanta fantasia e si sa i giovani di fantasia ne hanno a volontà come i ragazzi di Rochano Oratorio che hanno allestito una commedia in due atti con l'esperta regia di Vittoria Lettieri la storia è praticamente di Tommaso che è uno scrittore che però ha un po' di crisi di ispirazione allora viene aiutato in questo dalla sua Colf che anche lei è un'appassionata di gialli e scrivono questo romanzo i protagonisti di questo romanzo sono un detective e la sua segretaria che sono proprio impegnati in un intreccio di ricatti vicende un po' surreali diciamo e divertenti e poi diciamo che la fantasia si va a mischiare con la realtà con un lieto fine che adesso chiaramente non dirò Ma la cioccolata che ci azzeca? La cioccolata c'entra e come perché ci sono due famiglie in mezzo a questa storia i fondent di origine tedesca e gli olè che sono di origine francese e chiaramente queste due famiglie non vogliono fondersi Quando si potrà vedere questo spettacolo così goloso e accattivante? Allora si potrà vedere venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre alle ore 21 nel Salone Parrocchiale di Rosciano Il posto è numerato e il costo del biglietto è 5 euro Servirà un po' per sostenere soprattutto i progetti che farà l'oratorio e i vari laboratori Per la prevenza dei biglietti bisogna chiamare al 331-4039086 Coinvolti tanti ragazzi dell'oratorio ma c'è un progetto alle spalle per questo lavoro Sì, proprio il progetto dell'oratorio è quello di fare aggregazione di fare gruppo e di lavorare insieme a un progetto Infatti questi ragazzi circa 30 ragazzi di Rosciano si sono visti per ben oltre 4 mesi in oratorio per provare divertendosi per fare questa commedia E quanti ragazzi sono coinvolti in questo? Circa 30 ragazzi dell'oratorio Naturalmente sono tutti insomma dilettanti però come l'hanno presa questa iniziativa? Sono molto divertiti l'hanno presa all'inizio erano un po' titubanti poi man mano che provavamo hanno cominciato un attimo ad essere un po' più sciolti e adesso ogni prova ridiamo come dei matti E per informazione è tutto vi ricordo che questa sera torna il programma Primo Cittadino con il sindaco di Fano Massimo Seri potrete telefonarci chiamando il numero 0721 86 14 33 per intervenire in diretta oppure mandare un messaggio anche con Whatsapp al 338 49 68 250 E allora grazie per la vostra attenzione a fra poco Grazie per la visione